Siamo allo sport calcio, il Rosso Blu Potenza. Ieri si è presentato alla città prima dell'esordio nel campionato di eccellenza. Obiettivo numero 1, il salto nella Serie D. Tifosi a sufficienza nella Sala dell'Arco nel Palazzo di Città per la presentazione ufficiale della squadra Rosso Blu Potenza. E questo fa ben sperare dopo un'estate travagliata per l'imminente impegno nel campionato di calcio di eccellenza. Una presentazione sobria e misurata in linea con il nuovo stile della società. Presenti l'organigramma societario al completo e le autorità, precisamente il sindaco Vito Santarsiero e l'assessore allo sport Giuseppe Ginefra. Primo a prendere la parola il dottor Antonello Grignetti, presidente quasi per caso di questo Rosso Blu Potenza, dopo l'uscita di scena, per ragioni personali, di Giovanni Ferrara, eppure presidente forte e determinato a condurre la società verso nuovi lidi. Già medico sociale del Potenza, anni 80 e 90, dirigente sportivo di lungo corso, il nuovo presidente ha lasciato vuota la casella del vice, originariamente destinata a lui. Un gesto simbolico, un invito affinché tutta la città occupi idealmente quella carica. Niente promesse, ha spiegato solo tanta serietà, continuità, impegno, professionalità, l'idea di un progetto pluriennale di una società sana per ripartire verso categorie più consone alla storia calcistica potentina. È un progetto di eccellenza, ma la squadra è veramente di categoria superiore, pensata per una stagione di vertice. Presentato a grandi linee il nuovo organigramma. Angelo Mastroberti, direttore sportivo. Rosario Romano, direttore tecnico. Bruno Saponara, team manager. Pinuccio Camelia, allenatore. Paolo Santarsiero, preparatore atletico. Tonino Nolè, preparatore dei portieri. L'avvocato Michele Saponara, consulente legale. Leonardo Volturno, addetto stampa. E via via tutti gli altri. Breve, ma sentito, l'intervento dell'assessore Ginefra. Potenza ha un'incredibile fame di calcio. Da parte del sindaco, l'auspicio di un ritorno del calcio potentino a dimensioni consone, ma coinvolgenti. Grazie.